Love is in the air. Serkan si innamora di nuovo di Eda. Eda e Serkan si riuniranno nuovamente. Pertanto dopo che la paesaggista si riprenderà dello shock legato alla perdita di memoria di Serkan, Eda deciderà di agire immediatamente affinché il suo ragazzo possa tornare a ricordarsi di lei. Il piano di Eda avrà inizio dopo che Bolat farà la proposta di matrimonio a Selene, in quel momento. Eda fingerà di essere fidanzata con suo amico Deniz, che accetterà la proposta di Eda di fingersi fidanzati. Quello che Eda non sa è che l'uomo è segretamente innamorato di lei, infatti lui accetta la sua proposta e insieme iniziano a ingelosire Serkan. Nonostante l'imprenditore ancora non ricordi la sua stravolgente storia d'amore con Eda, giorno dopo giorno, ne sarà sempre più attratto e dimostrerà che sta cominciando ad avere un certo feeling per lei. Alla festa di compleanno di Selene, Eda si perderà durante la nevicata. Quindi Serkan lascerà la festa per cercarla. La giovane donna si era persa durante la tempesta di neve. Ed è stato proprio Serkan a trovarla. Cercando rifugio. Sono finiti in una baita dove hanno finalmente potuto parlare con calma di quanto fosse bello il loro rapporto. Tu ed io ci siamo capiti con gli sguardi. Sapevamo cosa provavamo guardandoci negli occhi. Ci siamo completati a vicenda. Quando abbiamo capito che c'era qualcosa in più ci siamo sentiti bene insieme, penso che sia questo l'amore. Ha detto Eda a Serkan. Nel frattempo, l'attuale fidanzata di Serkan e Deniz non hanno smesso di cercarli. Quest'ultimo sta collaborando con Selene per separare la coppia quando finalmente li trovano. Selene ebbe la peggiore delle sorprese. Eda e Serkan stavano dormendo insieme e si erano riavvicinati di nuovo. Come reagirai Selene? E cosa succederà da qui in poi? Per scoprire non ci resta che aspettare il prossimo episodio. Le anticipazioni terminano qui. Per non perdere altri video della vostra serie preferita, iscriviti al canale.